Buongiorno a tutti e benvenuti alla non edizione del Think Tank Award. Siamo nove edizioni in cui abbiamo visto sfilare i progetti dei giovani delle varie università che si sono succedute, alcune che sono ormai dall'inizio con noi, con noi c'è Sandro Castaldo dell'Università Bocconi, abbiamo con noi Renora Graffione, presidente della giuria del Think Tank di quest'anno, Marina Bassi e Francesco Oldani, giornalisti di Markup e GD Week. Perché è nato il Think Tank? È nato proprio come Think Tank, cioè il retail, abbiamo spesso parlato di bisogno di innovazione e l'innovazione può venire da tanti punti di vista, ma sicuramente quella dettata dai giovani che si approcciano a questo tema per la prima volta è sicuramente una visione nuova e diversa che vogliamo e abbiamo voluto negli anni fosse anche da stimolo ai lettori di GD Week. I progetti sono stati pubblicati e ritrovate tutti nella sezione Think Tank di GD Week.it, quelli di quest'anno non vi dico nulla ma sono bellissimi, arrivano poi da mondi anche lontani perché abbiamo con noi anche la sta indiana e sicuramente sono, e pensando che sono i progetti presentati tra il 2019 e il 2020, quindi sono progetti pre-Covid e ci scusiamo del ritardo alle premiazioni ma come immagino tutti abbiamo avuto qualche piccolo problema nel frattempo, sono progetti che oggi anche post-Covid possono raccogliere sicuramente la nuova normalità di cui allora non si parlava ma che sicuramente nella mente dei più giovani già leggiava. Ma io qui mi fermo e passo la parola subito a Sandro Castaldo, Università Bocconi. A te la parola Sandro. Grazie Cristina e grazie a tutti i colleghi e al Presidente della giuria che ci consente e ci hanno consentito in questi anni di svolgere questa attività con gli studenti di tante università a livello sia nazionale che internazionale. Devo dire che gli studenti ogni volta che proponiamo questa esperienza sono sempre estremamente coinvolti e sono certamente spinti a dare idee alle aziende, idee al mondo del retail e non solo perché molti dei progetti toccano poi anche tutta la filiera quindi si propagano verso l'industria, quindi tutta sulla supply chain. Riferendomi a quello che indicavi tu in precedenza cioè che questi progetti sono comunque anche se sviluppati prima del covid assolutamente attuali mi vengono proprio in mente le tipologie di innovazione che sono state proposte dagli studenti già dai primi progetti di ormai dieci anni fa e se io penso ai progetti di dieci anni fa, oggi nell'ambito dei punti di vendita alcuni di questi progetti sono diventati poi realtà nell'ambito del retail italiano e anche internazionale e i vettori su cui si è lavorato moltissimo e i ragazzi hanno lavorato moltissimo come il retail, ha lavorato tanto e sicuramente è il vettore della digitalizzazione e quindi già ricordo dieci anni fa quando probabilmente parlare di e-commerce sembrava una cosa molto lontana parlare di app, di click and collect sembrava qualcosa di assolutamente impossibile da realizzare in realtà questi progetti proponevano proprio iniziative di questo tipo con un'integrazione delle tecnologie rispetto al punto di vendita fisico per realizzare l'experience del cliente sempre più comoda, sempre più seamless, sempre più facile dal mondo digitale al mondo fisico Un'altra traiettoria che ha sempre caratterizzato questi progetti sia quelli che sono stati svolti all'estero sia quelli in Italia è la sostenibilità e se oggi vediamo poi il tema della sostenibilità insieme al tema della digitalizzazione rappresentano un po' i due vettori anche di quello che sarà il nostro piano di sviluppo e di recupero rispetto alla crisi del Covid la sostenibilità che è stata declinata sotto varie forme sotto forma di supply chain, sotto forma di economia circolare ricordo dei progetti che parlavano già da tempo di recupero degli imballaggi del recupero dei tessuti piuttosto che dei mobili utilizzati, già usati progetti che pensavano a un punto di vendita in grado di produrre autonomamente energia addirittura ricordo alcuni casi di palestre insieme a supermercati dove la palestra consentiva o non solo di mettersi in forma ma anche di produrre l'energia per far funzionare il supermercato o di pavimenti intelligenti che bastava calpestardi per creare energia ecco, sono tutte innovazioni che datano qualche anno fa e poi le vedremo successivamente nella presentazione che ci farà Francesco Aldani ma che poi rappresentano il presente e l'immediato futuro di molto del retail italiano e internazionale consentitemi di dire poi che il confronto dei ragazzi rispetto alla competizione sia interna perché chiaramente sia in Bocconi sia nelle altre università c'è una selezione e quindi noi portiamo a livello di giuria solo quelli che sono i progetti migliori quelli che vengono valutati con la valutazione più elevata perché poi gli studenti hanno alla fine del loro corso che è un corso di channel management di gestione dei canali o di retail management hanno una valutazione che comprende sia l'esame individuale sia il lavoro di gruppo del think tank e quindi sono particolarmente spinti a fare degli ottimi lavori perché poi rappresentano parte della loro valutazione però poi c'è anche la competizione tra i gruppi sia nell'ambito dell'università e nel momento in cui si arriva al confronto con le altre università a livello internazionale c'è una spinta ancora più forte che determina anche quella adrenalina fondamentale come abbiamo visto negli ultimi europei per poter competere non solo nell'ambito del loro contesto specifico contesto universitario nell'ambito del loro paese ma addirittura a livello internazionale e quest'anno siamo usciti anche fuori dall'Europa in realtà non solo quest'anno è già da un po' che abbiamo coinvolto anche il campus diciamo asiatico di Sdabocconi dove ci sono dei ragazzi indiani veramente molto in gamba e che hanno la fortuna di vedere quello che sta succedendo nel Far East che per il retail è sicuramente un laboratorio importante in termini di sperimentazione vedo Monica Grosso che si è appena collegata e cedo la parola a lei per raccontare un po' la sua esperienza dal punto di vista di M. Lyon perché come molti di voi sanno Monica è professore presso M. Lyon in Francia quindi a Lyon oltre ad essere il direttore del dipartimento di marketing della stessa università prego Monica beh devo dire che l'esperienza che ho io col Team Tank a Lyon è molto positiva ai ragazzi piace molto l'idea e lo spirito di generare nuove idee di mettere in pratica quello che vedono nei corsi su un progetto che per quanto resti creativo deve essere concreto perché poi è valutato dalla giuria e soprattutto gli piace lo spirito internazionale che menzionava Sandro quando sono arrivata effettivamente è un aspetto che gli piace vedere anche poi i progetti ogni anno io faccio vedere i video delle altre scuole li metto sul sito perché possano vedere come può essere diversa l'interpretazione a seconda della cultura di dove vengono e di come possono partendo dalla stessa obiettivo comune poi declinarlo su degli aspetti molto diversi nella pratica a seconda di dove vogliono aprire il loro punto vendita quindi penso che è un valore aggiunto a quello che noi possiamo dare nei corsi che gli permette anche di crescere di confrontarsi con idee che vengono da altre parti del mondo grazie Monica mi sembra una perfetta sintesi proprio di questo mix di proposte che però allora se devo commentare quelle di quest'anno io trovo che in fondo quando parliamo di trend globali li abbiamo un po' ritrovati anche nei progetti e la cosa devo dire peculiare è proprio come queste declinazioni cambiano da paese a paese anche in Italia perché abbiamo anche l'università di Catania sono interpretazioni diverse ed è molto molto interessante ma a questo punto ripasserei la parola a Marina Bassi ok grazie a tutti buongiorno allora scusate sono un'affezionata del think tank da tanto tempo mi piace molto sempre l'idea di partecipare e di vedere perché quello che trovo particolarmente interessante non è soltanto la creatività dei ragazzi che si immedesimano nell'essere dei manager e degli imprenditori del futuro ma trovo che ogni volta dimostrano di essere dei consumatori particolarmente sofisticati anche quando cercano di essere un po' più diciamo semplici in realtà hanno una spinta che è completamente diversa e riescono a vedere tutte le situazioni in modo molto creativo e da dei punti di vista sempre innovativi poi che siano italiani che si occupino dell'alimentare che si occupino invece del fashion design e del luxury che piace molto è sempre molto divertente ecco io lo trovo sempre molto divertente da questo punto di vista divertente l'incontro con i ragazzi fisico ma anche quando l'abbiamo fatto l'ultima volta via zoom le università che hanno partecipato come abbiamo già detto sono state quattro l'università Bocconi Emilon Business School l'università di Catania e l'ASDA Bocconi Asia Center i progetti sono stati molti e si sono concentrati su queste cinque categorie che con il tempo hanno si sono leggermente modificate per aderire meglio diciamo alla situazione diciamo del mercato in ogni categoria abbiamo previsto dei vincitori e poi abbiamo previsto un vincitore assoluto che è quello che ha diciamo totalizzato il punteggio più alto da parte di tutti i partecipanti alla giuria partecipanti alla giuria che comprendono esperti del retail di vario livello architetti diciamo giornalisti consulenti oltre che i docenti e oltre soprattutto ai retailer stessi che devo dire ogni anno guardano questi progetti con un occhio comunque interessato sempre molto interessato le aree sulle quali ci siamo concentrati ormai in questi anni riguardano il green e il retail della sostenibilità cioè un concetto il punto di vendita verde verde come assortimento verde come struttura ed edificio verde come approccio il digital retail che è diventato come dire sempre più importante in questi ultimi direi cinque anni che ha come obiettivo quello di sottolineare l'integrazione tra online e offline il food retail perché rimane come dire la palestra comunque una delle palestre più interessanti e ci siamo sempre concentrati sui punti di vendita diciamo dai piccoli supermercati in poi quindi dai 600 metri quadri e sui permercati e superstore partendo dal presupposto che gli permercati diciamo sono le strutture che storicamente in questi anni hanno mostrato di avere più necessità di innovazione e superstore invece che mantengono le loro caratteristiche di innovazione anche nel contesto economico ma che sono sempre aperti a nuovi spunti quando ci sono la categoria del concept retail è come dire un po' più ampia e spazia nell'integrare e nel parlare di mondi diversi che si integrano in un unico spazio di vendita per cui spesso c'è la ristorazione ma non solo spesso come ricordava prima Sandro ci sono le palestre spesso ci sono diversi coniugazioni di luoghi che sono di vendita ma non solo necessariamente di vendita e anche di altro spesso c'è molto divertimento, molto servizio proprio anche agli studenti che riescono a esprimere diciamo al meglio secondo me la loro creatività quando riescono a capire anche in prima persona quali sono le loro esigenze non poteva mancare in questa nostra carrellata una progettazione che riguardasse il fashion luxury and design store che ai ragazzi piace sempre molto e sul quale devo dire soprattutto i ragazzi non italiani da questo punto di vista si cimentano volentieri in questo settore e anche in questo caso ne abbiamo viste come dire di molto divertenti quindi prima di passare direttamente alla premiazione capire quali sono i progetti mi piaceva coinvolgere Eleonora Graffione che in qualità di nostro presidente di giuria ci racconta il suo punto di vista grazie a tutti allora grazie innanzitutto a tutti per questa opportunità che mi è stata data da sempre mi piace essere coinvolta nel mondo dei giovani quindi nel mondo universitario su diverse iniziative come questa anche perché da anni faccio parte di un mondo che io considero un po' stantio un po' vecchiotto e dai giovani possono venire quegli impulsi quelle idee, quel modo di vedere il nostro mondo con occhi che noi non siamo ancora in grado di cioè non siamo più in grado di trovare quindi sicuramente il loro contributo per noi può essere fonte di idee di insomma di innovazione questi due anni sono stati particolari per il nostro mondo proprio per accelerazioni su alcuni argomenti che per il DNA dei nostri ragazzi erano già un patrimonio normale per noi forse sono stati gli eventi che ci hanno travolto sono stati degli acceleratori chi più di loro ci può dare questa qualche idea nuova e qualche prospettiva diversa di gestire questo mondo io ovviamente lo vedo più dal mondo food ma sono sicuramente interessata anche a tutto quello che riguarda in generale il campo delle vendite e poi ritengo che queste iniziative siano utilissime ai ragazzi per avvicinarli più velocemente al mondo del lavoro oggi il settore universitario comunque si ha dei suoi metodi consolidati spesso però noi ci ritroviamo quando facciamo i colloqui con i ragazzi a doverli catapultare nel mondo del lavoro e questi si trovano un po' spaesati ecco queste iniziative aiutano il giovane ad avvicinarsi più velocemente al settore di appartenenza a quello gradito e ad avere un po' più di realtà visiva di quello che è veramente poi il mondo del lavoro con questo io non voglio rubarvi ulteriore tempo e gradisco vedere insieme a voi e rivedere insieme a voi tutti i progetti e poi procedere con la premiazione grazie grazie Eleonora io direi che si procediamo con la premiazione e passo la parola a Francesco Aldani sì grazie Cristina un saluto a tutti grazie della partecipazione abbiamo dopo una votazione un po' ristretta quest'anno a causa delle motivazioni prime esposte abbiamo selezionato i cinque progetti che nelle varie categorie hanno raggiunto il massimo consenso io seguo da un po' di anni questo laboratorio del team tank credo che sia un laboratorio molto molto importante i progetti che sono passati di qui evidenziano gli elementi che prima sono stati sottolineati sia da Cristina, da Leonora dai docenti, da Monica Grossi e Sandro Castaldo ma credo che sia anche un laboratorio che dia delle indicazioni che vanno oltre la progettualità dei vari punti di venita dei vari concept come sappiamo il retail in qualche modo ha sempre seguito la società vedere l'evoluzione del retail in qualche modo è vedere qual è l'evoluzione della società e anche oggi in tutto il mondo si può utilizzare questo come raffronto e qui noi vediamo nei progetti che abbiamo considerato vediamo almeno tre elementi che sono portanti e che vale la pena considerare vale la pena prendere come elemento di insight per capire un po' come sta evolvendo il tutto da un lato abbiamo dei progetti che subiscono l'influenza sia locale sia globale progetti global chi realizza questi progetti i ragazzi, gli studenti sono persone giovani contemporanee che quindi come diceva Edonora Graffione sono calati nella loro dimensione sia di stile di vita sia di stile di consumo sia di interpretazione della vita stessa e quindi lì in qualche modo trasferiscono la visione di quello che è un vissuto però lo fanno con una sensibilità che è globale e quindi vediamo i temi del green i temi della sostenibilità i temi del digitale ma anche interpretano delle esigenze che sono anche locali perché per esempio lo studente la persona che vive nelle città in città globali come sono Milano o altro ha un vissuto che evidentemente connota quel tipo di presenza e poi il contesto generazionale il contesto generazionale sono persone giovani che trasferiscono in queste concettualità il loro modo di vedere non solo la vita non solo i consumi ma anche la vita e quindi in qualche maniera danno un'indicazione di quelli che sono le fasi evolutive della società stessa quindi questo team tank a mio modo di vedere ne ho visti tanti di progetti presenta tanti elementi sui quali vale la pena soffermarsi detto questo passiamo dunque a condivido lo schermo con la presentazione con la parte di presentazione passiamo quindi a eccolo qui spero che lo vediate ok mando tutto schermo ecco andiamo a percorrere le varie categorie per assegnare indicare quali sono i progetti che hanno vinto quest'anno nella categoria green in CSR retail abbiamo cinque progetti della Bocconi e della M.Lion Business School ciclo e riciclo Green Recoab Belief e Sicori di questi progetti ha raggiunto il massimo score e vince ciclo e riciclo progetto portato avanti da un gruppo di studio dell'università Luigi Bocconi si basa è un progetto originale e come dicevo prima mette insieme quelli che sono gli elementi di economia circolare a tutti i livelli in sostanza si tratta di uno store che propone la vendita di biciclette ma va a risolvere il problema della mobilità della mobilità soprattutto urbana mi riaggancio alle esigenze contestuali qui a Milano la questione delle piste ciclabili è di grande attualità lo spostamento del trasporto motorizzato a emissione a quello dolce a quello senza emissione è un tema molto molto rilevante e questo progetto incarna proprio questo tipo di sensibilità non solo tende punta a risolvere le esigenze di mobilità senza emissioni ma l'intero store che ha anche una parte produttiva significativa mi aggancio a quanto diceva il professor Castaldo circa le implicazioni industriali produttive è totalmente green le biciclette vengono realizzate secondo il progetto con materiali totalmente riciclabili il consumatore ha la possibilità di customizzarle e tutto il ciclo che viene preso in considerazione è totalmente green totalmente a emissioni zero tutte le componenti sono state valutate in maniera accurata per cui tra tutti i progetti questo è parso quello maggiormente interessante anche se tutti gli altri meriterebbero comunque ugualmente di essere citati e ugualmente di essere premiati però questo dalla giuria è stato considerato quello più interessante la descrizione completa del progetto è nella pagina del team tank di Eugenio Wick chi fosse interessato può andare a leggere tutti i dettagli passando alla parte digital retail qui abbiamo in concorso abbiamo avuto in concorso quattro progetti Zoe Sheldon Omed e Flower anche qui dell'Università Luigi Boccone dell'MLion Business School sono progetti che fanno del digitale l'asset portante della realizzazione stessa del progetto non hanno tecnologie futuristiche ma hanno tecnologie già disponibili probabilmente non ancora implementate in maniera al massimo delle potenzialità che esse possono restituire e che qui ci offrono la possibilità davvero di dare uno sguardo a quello che potrebbe essere il retail del futuro in questo caso il progetto prescelto il vincitore è Zoe che è un punto di vendita un fashion store che consente al consumatore al cliente un'esperienza che per quanto mi riguarda finora non è non è possibile a livello pratico ma che la tecnologia in realtà consente l'idea è quella di dotare il punto di vendita di un'attrezzatura che il cliente utilizza solo una volta quindi una tuta dotata di sensori la tuta dotata di sensori permette di realizzare una scansione tridimensionale della fisionomia della persona stessa e un sistema totalmente digitale consente poi di trasferirvi qualsiasi tipo di prova di capo presente nel punto di vendita semplicemente con la lettura del QR code questo consente non solamente di avere un'esperienza in store diversa particolarmente accattivante e coinvolgente ma anche di dislocarla rispetto al punto di vendita stesso il cliente semplicemente selezionando un capo ha la possibilità di vedere visivamente com'è il risultato nell'essere indossato ripeto sono tecnologie che richiedono applicazioni sono disponibili ovviamente poi tutta l'applicazione stessa fa parte di un business plane che probabilmente a livello pratico vedrà la luce come diceva il professor Castaldo anche nei prossimi tempi sotto forme diverse o leggermente diverse o comunque sempre legata a questo tipo di implementazione ripeto anche qui gli altri progetti che sono sempre tutti quanti elencati nella pagina del team tank di digitale meritano comunque io dico ugualmente la stessa posizione perché sono tutti molto interessanti però questo è quello che ha colpito probabilmente di più la giuria per l'engagement che offre al consumatore passando alla categoria del food retail abbiamo anche qui quattro progetti food around digital cookie pomodoro help pro qui ci sono dei progetti che sono particolarmente interessanti perché impattano su un settore quello del food dove probabilmente è più facile e parallelamente difficile creare innovazione creare nuove modalità è interessante notare come mi preme sottolinearlo in questo contesto del food come vi sia un trend trasversale che qui nel food adesso vediamo ma anche negli altri progetti è presente che è quello di andare a rendere il consumatore come elemento centrale cioè non si offre qualcosa al consumatore come in termini di prodotto o anche di servizio ma gli si offre una soluzione una soluzione a quello che è una propria situazione di vita una situazione personale una situazione in senso più ampio e questo è interessante perché è presente un po' in tanti progetti in tante categorie in questo caso il progetto selezionato nella parte food è che ha vinto la sua categoria Health Pro uno store per la dieta integrata questo progetto incarna proprio della Sdabocconi Asia Center incarna proprio il concetto di cui parlavo prima cioè in sostanza fornisce una soluzione alle esigenze nutrizionali della persona contemporanea persona contemporanea che si trova a dover contemperare le esigenze di vita attuali che sono una vita piena di impegni di diciamo così condotte imposte uso questo questa definizione per farmi capire e dall'altra parte la necessità di comunque mantenersi in buona salute in buona forma e la necessità di integrare proprio l'aspetto nutrizionale con quello con quello del vissuto e il progetto prevede un punto di vendita in cui vengono garantite tra virgolette proteine e vitamine adeguate al profilo nutrizionale del del consumatore che viene misurato controllato e normato attraverso degli strumenti presenti nel punto di vendita e attraverso di essi attraverso di esso il consumatore può raggiungere quelli che sono degli obiettivi nutrizionali che da solo nell'esperienza anche quotidiana di tanti si può riconoscere difficilmente si possono raggiungere un servizio integrato un nuovo tipo di proposta che merita di essere studiata di merita riflessione e che nel nostro contesto di valutazione ha raggiunto appunto il primo posto nella sua categoria food proseguendo si arriva al concept retail anche qui abbiamo un buon numero di progetti sono 5 BT Change Boxit Lock Lock Future Food Market T-Fill sono progetti molto diversificati vengono anche qui dall'Università Luigi Bocconi della Midlion dall'Università degli Studi di Catania e dalla Sdabocconi Asa Center anche qui chi ci sta guardando invito ad andare sulla pagina di GD Week a guardarseli tutti e ad andare a notare come anche le diverse collocazioni geografiche quindi locali danno delle intuizioni degli insight ai progettisti di questi di questi concept perché vale la pena fare questo tipo di valutazione in questo caso il progetto che è risultato vincitore dalla votazione che è stata effettuata pochi giorni fa è Lock Lock Store che cos'è diciamo che ha colpito molto questo progetto perché ha un elevato tasso di innovazione si va ad inserire nel settore dei viaggi del turismo e in questo tipo di settore proporre qualcosa di davvero innovativo di disruptive come si usava a dire fino a qualche tempo fa fino all'arrivo di altre terminologie più in voga non è semplice ma in questo caso il progetto secondo chi ha votato ci riesce egregiamente poi ovviamente ci sono delle valutazioni da fare che sono di implementative però a livello di concept ci riesce che cosa fa? è un progetto dedicato ad una parte del mondo alla Cina unisce l'elemento di intrattenimento con quello del turismo e quindi offre al consumatore un pacchetto completo intrattenimento e viaggi che è declinato sui target che si vogliono andare a raggiungere sostanzialmente è un'esperienza quello che è a passo molto molto interessante è un'esperienza completa un'esperienza completa in cui l'engagement è legato sia all'aspetto del viaggio ma tutto quello che ci sta attorno quindi altri elementi e il servizio offerto complessivo potrebbe e può raccogliere l'interesse e l'adesione soprattutto di un bacino di consumo che è molto molto per la fase che sta attraversando molto molto interessato a questo tipo di esperienza ad arricchirsi ad intrattenersi a divertirsi a dare anche una componente educativa ai ragazzi e ai piccoli e per questo motivo il progetto ha raggiunto il primo posto nella parte nella sezione concept dunque arriviamo quindi all'ultima categoria che è quella fashion luxury design dove abbiamo due progetti one stop beauty della università Luigi Bocconi e l'unique della business school M. Lion anche qui adesso vediamo chi ha vinto ma anche qui abbiamo un elemento che è contestuale infatti il vincitore di questa categoria è one stop beauty un outfit sempre innovativo di che cosa si tratta qui è stato immaginato si è partiti da una situazione di vita reale il tutto è calato in una città come Milano che è una città globale è una città che rappresenta tante altre città al mondo in termini di stili di vita stili di consumo e modo di vivere e per cui la necessità a volte delle persone di switchare da una situazione all'altra senza avere il tempo di poterlo fare senza avere il tempo di poter prepararsi per un altro tipo di situazione che può essere tipo a stessi tipo ludica ma come un impegno anche non di quel tipo allora one stop beauty è un outfit dove attraverso dei pacchetti il consumatore trova tutto per cambiare se stesso e rendersi adeguato a un altro tipo di situazione quindi troviamo al suo interno un parrucchiere troviamo al suo interno la parte di abbigliamento la parte di messa a punto di tutto quello che è il proprio outfit di tutto quello che è la propria immagine ovviamente si tratta di un progetto particolarmente innovativo dove l'idea comunque punta a una reale situazione di vita urbana e che probabilmente ha nel try and buy passatevi in questo termine cioè nella prima esperienza rispetto a quanto offerto l'elemento dirimente circa la validità e circa l'utilità di questo tipo di questo tipo di offerte rimando sempre alla pagina sul sito per altri approfondimenti sono tutti progetti che meriterebbero sessioni molto più lunghe per la loro spiegazione però qui per esigenze di tempo ho dovuto dobbiamo condensare quelli che sono gli elementi diciamo così importanti e distintivi dei progetti stessi arriviamo quindi alla premiazione del del primo classificato assoluto che rappresenta quello che ciò che la giuria ha identificato come il progetto più rappresentativo di questa annualità in questo caso arriviamo a identificare e a premiare lo clock store tra le store i motivi sono quelli di cui ho accennato prima il grande tasso di innovazione che questo progetto comporta la sfida raccolta che è quella di andare a innovare in un settore come quello del turismo che è in profonda trasformazione e che è un settore difficile perché è un settore particolarmente difficile dove la componente umana è l'elemento centrale su cui andare a rendere la propria proposta vincente e coinvolgente e perché è in grado di unire in sé tanti elementi e restituire un'esperienza che probabilmente non ha non ha uguali poi ovviamente l'implementazione e la traduzione sul campo è un passo ulteriore che bisogna andare a verificare che poi la natura della progettualità in forma concreta dovrà dimostrare però la giuria alla fine ha tratto questo tipo di conclusione questo tipo di determinazione allora la conclusione è che tutti questi gruppi di lavoro questi ragazzi hanno sicuramente offerto con il loro impegno alla comunità scientifica al mondo dell'università ma a tutti gli stakeholder del retail del retail un contributo molto molto importante perché mi associo alle motivazioni che sono state espresse prima a Cristina Lazzati da Leonardo Graffione da Monica Grosso da Sandro Castallo perché sono sostanzialmente un outlook su quello che è il presente e il futuro prossimo spero che l'occasione successiva non sia diciamo così funestata dall'evento che abbiamo vissuto che ci ha limitato che ci possa consentire di arrivare ad una premiazione ad un evento diverso da quello che quest'anno abbiamo portato su questi schermi come i gruppi di lavoro e come i ragazzi meritano per cui io ringrazio tutti e do appuntamento alla prossima edizione la cui data è da stabilirsi in funzione anche delle annualità e dai flussi di lavoro delle università e dei ragazzi stessi passo la parola a Cristina per un saluto Cristina Lazzati per un saluto finale e vi rimando alla prossima edizione e alle pagine del sito dove sono presenti tutti i progetti del think tank grazie grazie Francesco e il devo dire grazie a tutti della partecipazione e anch'io mi unisco poi sarà la decima edizione quindi magari riusciamo ad andare anche a recuperare gli studenti che vinsero le prime edizioni del think tank e sarebbe carino sapere se poi alla fine effettivamente hanno lavorato nel retail o stanno lavorando nel retail quindi invito i docenti a fare una ricerca di questi di questi premiati perché il nostro obiettivo effettivamente è rivederci tutti in presenza e consegnare fisicamente questi premi che oggi non siamo riusciti a fare se volete dire qualcosa Sandro Monica io volevo ringraziare te e tutto lo staff di GDU Week di Markup per il sostegno che ormai insomma da dieci anni stiamo avendo per questa iniziativa che ha un impatto incredibile perché se ci pensate noi abbiamo visto una selezione di progetti che sono questi chiaramente selezionati dalle singole università ma in ciascuna delle università vengono presentati pochi progetti ma ne vengono realizzati molti come dicevamo prima solo per dare un'idea all'università Bocconi abbiamo 40 team che lavorano composti da 5-6 persone ciascuno quindi stiamo parlando di 200-250 persone numeri analoghi Envyon e le altre università quindi parliamo di oltre 100 progetti all'anno oltre 100 team che avete visto di nomi internazionali che vanno dalla Cina all'India all'Europa al Sud America agli Stati Uniti quindi stiamo parlando veramente di un gruppo di almeno 5-600 ragazzi all'anno quindi se facciamo la somma di 10 anni stiamo parlando 5-6.000 ragazzi che sicuramente avranno dato un impatto e un'idea innovativa al mondo del retail ma molti di questi perché noi li seguiamo stanno lavorando nell'ambito delle filiere quindi semmai non nel retail ma nell'industria come responsabili del retail e pertanto sono certo che continueranno con entusiasmo e quell'entusiasmo probabilmente è scaturito anche dall'aver partecipato al think tank e ogni volta che le incontriamo ce lo ricordano Grazie Sandra Monica vuoi aggiungere qualcosa? Devo semplicemente aggiungermi ai ringraziamenti perché effettivamente i ragazzi scoprono il mondo di Markup e GDOE come nei miei grazie a voi e grazie al sito e tutto il lavoro che so che i miei team lavorando in inglese vi danno un lavoro aggiuntivo che è la traduzione dei lavori e gli fa anche piacere poi vedere e leggere quella che è la trasposizione in una lingua che non necessariamente conoscono ma insomma negli anni avevo cercato anche di coinvolgere altri editori eccetera e devo dire che il vostro supporto è ineguagliabile quindi grazie mille grazie Monica io direi che ne approfitto anch'io per ringraziare ma in questo caso i miei due colleghi in particolare Francesco Aldani e Marina Bassi per tutto il lavoro svolto in questi in questi anni perché devo ammettere che effettivamente il think tank è proprio una loro una loro creatura da ormai un po' di tempo però l'ultima parola io la darei alla nostra presidente di giuria io devo fare un invito a Sandro perché bisogna che mi aumenti un po' il vivaio nel retail perché qui vogliono andare tutti nell'industria ma il mondo del retail è decisamente affascinante quindi spero che Sandro possa essere portavoce insieme anche ai suoi ovviamente i suoi colleghi di sponsorizzare un po' di più il mondo del retail a tutti a tutti i livelli e non dico solo nella parte del food perché abbiamo bisogno di menti nuove voglie stimoli nuovi idee ma anche entusiasmo ecco per portare avanti le nostre attività quindi grazie mille a tutti di questa opportunità e gran bel lavoro grazie a tutti voi e ragazzi se ci state ascoltando mi raccomando il retail vi aspetta e arrivederci alla prossima edizione arrivederci grazie